Oltre, com'è? Portami! Con un po' o no? Ah, io no! Ehi, sto giocando un po' stanno di rossi, eh? E la moglie? La moglie, dov'è? Allà, mamma di appoggiare qui? Sì, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Sì, non c'è, non c'è. La moglie pone Enri. No, io ti aspetto. Ma come è moderno questo sposo, guarda Uno di un americano Grazie per la visione Grazie per la visione